Guardate qui per il quadro del mondo, la laurea di mio figlio! Occio! Pago! Questo pezzo di carta ti aprirà le porte del mondo! Beh, forse non proprio tutte le porte del mondo, ma... ma con le donne è un ottimo passaggio. Guarda quello che c'è sì. Occio, Occio, Occio! Ferma, ferma, ferma il crafty po'! Ma dove crede di andare? Non vede? Pony Express! Isabella Ferrari, Jerry Cabernet, il ragazzo del Pony Express. Questa sera alle 22 su Italia 1.